Il mio obiettivo è di far uscire questa storia dall'Italia, quindi parlerò inglese. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato quest'oggi, soprattutto il gruppo EFDD. Come azienda, casaleggio associati, ha affrontato diversi temi in diversi settori, tra cui la politica. Oggi vi racconterò la storia di come un movimento è andato da zero voti a 8 milioni in 5 anni senza soldi, usando l'Internet. Questa è la storia che vi racconterò oggi. Prima di parlare del Movimento 5 Stelle, volevo parlarvi di quello che sta succedendo nel mondo. Con l'adozione, l'utilizzo di Internet, vediamo che sempre più le cose cambiano nel mondo, nella politica. Nel 1999 abbiamo visto 50.000 persone davanti all'OMC a Seattle e l'abbiamo visto grazie all'organizzazione online, tramite Internet, che ha organizzato queste persone che sono riuscite a incontrarsi e tutto questo ha sorpreso l'OMC all'epoca, è stato sorpreso da questa protesta. Qualche anno più tardi, passiamo negli Stati Uniti, Howard Dean è stato probabilmente il primo democratico che ha utilizzato l'Internet per la sua campagna politica. si è rappresentato contro Kerry, che alla fine ha vinto e poi ha perso contro Bush, ma per il governatore del Vermont era strano essere uno dei candidati principali nelle primarie dei democratici, ma è stato possibile grazie all'uso di Internet, è riuscito a utilizzare l'Internet in molte maniere, tra cui l'impiego del Meetup, una cosa che abbiamo ereditato noi come Movimento 5 Stelle e che abbiamo poi utilizzato qualche anno dopo. Poi c'è stato Barack Obama con due elezioni, due volte eletto Presidente degli Stati Uniti e lui ha cominciato un nuovo modo di fare campagna online, un nuovo modo di non acquisire denaro dalle lobby, insomma grandi contributi in denaro, ha cominciato a concentrarsi su piccoli contributi. Nella sua prima campagna più del 30% dei fondi raccolti era costituito da contributi al di sotto ciascuno dei 200 dollari. Quindi si concentrava fondamentalmente sulla raccolta di fondi dalla gente e non dai PAC. Vi ricorderete diversi messaggi di Obama in diversi contesti, parlava sempre del fatto che vogliamo il potere e il denaro dal popolo, dalla gente. Poi abbiamo avuto diversi esempi in Europa di come partiti, i movimenti sono stati creati dal nulla. Nel 2009 il partito pirata svedese che ha ottenuto 7% dei voti e un seggio al Parlamento Europeo. C'è stato Wikileaks poi che ha cominciato a renderci consapevoli del fatto che delle informazioni segrete sono difficili da mantenere segrete di fronte al popolo. Abbiamo visto i cable che hanno fatto il giro dell'internet, poi abbiamo visto fenomeni come Occupy Wall Street, dove migliaia di persone sono riuscite a far protesta, a raccogliersi, a riunirsi di fronte a Wall Street portando il messaggio siamo il 99%. Poi il partito pirata tedesco in Germania che è riuscito ad ottenere dei seggi a dei parlamenti dei Lender e poi anche il Parlamento Europeo. Il movimento Indignados, il movimento 15M in Spagna con una serie di manifestazioni nelle piazze, nelle strade, tutto questo grazie e tramite l'organizzazione online di queste proteste. e poi recentemente un evento che è un po' una trasformazione, una mutazione del sistema di voto che conosciamo e sono lieto che avremo modo di ascoltare uno degli attori principali. Nel 2011 conosco questi dati, li ho verificati con te e prima questi dati. So che nel 2005 avete cominciato nelle elezioni regionali e poi successivamente siete arrivati a livello parlamentare e so che ora siete arrivati al 30%, una percentuale molto elevata se pensate al sistema di voto online rispetto a quello di altri paesi. Poi la primavera araba che ha avuto inizio nel 2010, che è andata avanti e probabilmente sta ancora continuando oggi in modi diversi. E infine c'è stato il Movimento 5 Stelle, di cui vi parlerò quest'oggi. Il Movimento 5 Stelle nel 2013 si è presentato per la prima volta alle elezioni politiche generali e nazionali e ha ottenuto più di 8 milioni di voti, con 54 deputati e 54 senatori in Italia e 17 deputati europei al Parlamento europeo. Questi sono alcuni esempi di quello che sta succedendo nel mondo e che vi dicono perché noi pensiamo che l'Internet sta cambiando le regole, sta cambiando il modo in cui vediamo la democrazia e la politica nel mondo. Però vorrei dirvi ancora qualcosa sul Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è un movimento italiano e ha alcuni principi, alcuni li vedete qui. Eliminazione dell'intermediazione, non c'è un capo locale, tutti fanno parte del Movimento, democrazia diretta, noi votiamo su tutto, tutto quello che possiamo. I nostri candidati fanno parte del Movimento e sono eletti dal Movimento, struttura dal basso verso l'alto. Il Movimento è il Movimento che decide per tutte le cose, per i candidati, per la discussione delle leggi e importanti decisioni da prendere all'interno del Movimento. niente soldi, non abbiamo una tesoreria e tutto è basato su Internet. Tutte le attività vengono svolte online. Una storia breve, per chi non ne sappia molto sul Movimento 5 Stelle, è iniziato tutto con un blog nel 2005, gennaio 2005, un blog di un attore comico, famoso in Italia, Beppe Grillo, che è stato cacciato via dalla televisione nazionale negli anni 90, è stato cacciato dalla Rai per una battuta che aveva fatto sul Partito Socialista, che era al potere all'epoca in Italia. Quindi, usando Internet, è riuscito a ristabilire la comunicazione con la gente. tra il 2005 e il 2008 abbiamo cominciato a utilizzare tutti gli strumenti che potevamo utilizzare in Italia, tutti gli strumenti di democrazia diretta che potevamo utilizzare in Italia, come per esempio l'iniziativa di legge popolare e il referendum. Abbiamo creato un grande incontro, il V-Day nel 2007, contro l'idea che vi siano dei condannati in Parlamento, persone condannate che stavano in Parlamento all'epoca 25 e poi abbiamo cercato di utilizzare il referendum con il V2-Day contro il sistema di finanziamento pubblico dei giornali. Poi abbiamo cominciato le liste civiche locali, 5 stelle, dicendo che erano liste senza criminali, strano da dire, ma era difficile che fosse così in Italia. Dicevamo che erano liste che non hanno professionisti della politica, quindi al massimo due mandati in politica e poi dicevamo che sono liste che presentano abitanti locali, gente della città. Questo è quello che abbiamo cominciato a fare certificando le liste civiche di 5 stelle tra 2005 e 2008. Nel 2009 abbiamo deciso di creare un movimento, è stata una cosa naturale. Il giorno di San Francesco, il 4 di ottobre, è sempre stato legato ai principi del movimento, soprattutto a livello dell'aspetto dei soldi e del sacrificio del movimento. Tra il 2009 e il 2014 abbiamo partecipato a molte elezioni comunali e regionali e abbiamo ottenuto più di 1.250 consiglieri e 11 sindaci in diverse località in Italia. Nel 2013, come vi ho detto prima, abbiamo partecipato alle elezioni nazionali e abbiamo ottenuto più del 25% dei voti nel 2013. Poi abbiamo confermato il fatto che siamo la seconda forza politica in Italia e nel 2014 abbiamo ottenuto 17 deputati nell'elezione del Parlamento europeo. Questa è una breve storia di quello che è successo con il Movimento 5 Stelle, però voglio dirvi ancora qualcosa sugli strumenti che utilizziamo nel Movimento 5 Stelle. Il primo aspetto è come selezioniamo i candidati. li selezioniamo e li scegliamo online. Quindi la gente decide di candidarsi all'interno del Movimento, gli altri vedono il loro curriculum, il loro video, le loro presentazioni e decidono chi può essere più valido per una certa carica, una certa posizione e alla fine finiscono il Parlamento. Come le elezioni europee? Avevamo 87.465 potenziali elettori e candidati che erano parte del Movimento, nel 2014 siamo a più di 100.000. 5.000 di questi hanno deciso di presentarsi come candidato alle elezioni europee. 73 attraverso le votazioni del sistema 5 Stelle sono stati selezionati e di questi 73 alla fine 17 sono stati eletti con questo sistema di selezione. E come definire poi il programma? Anche il programma del partito viene definito online. Discutiamo i progetti di legge anche presentati dal Movimento 5 Stelle. Oggi al Parlamento italiano abbiamo discusso più di 160 progetti di legge con questo sistema che noi chiamiamo lex, è un sistema online. Oggi ci sono 22 progetti di legge in discussione al momento e tutti i partecipanti del Movimento 5 Stelle possono discuterle, fare obiezioni, proporre delle integrazioni rispetto ai progetti di legge. Quindi i deputati parlamentari possono integrare la legge, emendarla, presentare il risultato finale delle discussioni che hanno avuto luogo online. La stessa cosa l'abbiamo fatta per il livello locale e regionale. Quindi per ogni regione dove il Movimento 5 Stelle è rappresentato al Consiglio regionale abbiamo attivato un sistema per discutere le leggi che vengono presentate, i progetti di legge che vengono presentati dal Movimento 5 Stelle. E infine poi per il Parlamento europeo ogni relazione trattata dal Movimento 5 Stelle è sottoposta ad una discussione sulla piattaforma lex e viene discussa, modificata, integrata, emendata da parte di tutta la gente del Movimento 5 Stelle. Una relazione recente discussa è stata poi approvata in commissione parlamentare molto recentemente sotto la guida del Pier Nicola Pedicini che è qui con noi quest'oggi. Per leggi più complesse abbiamo creato un sistema di sondaggio deliberativo. Per esempio in Italia forse sapete che c'è una legge elettorale che è stata dichiarata incostituzionale e quindi abbiamo dovuto creare o proporre una legge elettorale in alternativa a quella che è stata dichiarata incostituzionale. Cosa abbiamo fatto? Una discussione di tre mesi online con un professore universitario che ha spiegato i diversi punti che riguardano la legge elettorale. Abbiamo fatto 9 voti online sui punti principali della legge e per ogni voto abbiamo avuto più di 30.000 votanti per ciascun singolo punto per stabilire che posizione avrebbe dovuto prendere il Movimento 5 Stelle rispetto alla legge elettorale. Questi sono alcuni esempi di come riusciamo a gestire i programmi, leggi e l'orientamento politico del Movimento. Un altro aspetto importante è come raccogliamo i fondi dalla gente e non tramite i sussidi di Stato. Forse saprete che in Italia negli anni 90, in particolare nel 1993, c'è stato un referendum che ha chiesto alla popolazione se i partiti avrebbero dovuto ricevere finanziamenti pubblici e gli italiani hanno detto no. Per effetto di quel referendum i partiti hanno cominciato ad ottenere rimborsi invece che finanziamenti pubblici con un trucchetto semantico per risolvere il problema, un trucchetto lessicale per risolvere il problema. Quello che abbiamo fatto per quanto riguarda le elezioni nazionali nel 2013 è stato questo, abbiamo chiesto alla gente di darci dei soldi per fare la campagna politica e abbiamo ottenuto più di 700 mila euro raccolti online. Ne abbiamo utilizzati soltanto 348 mila, il resto è stato dato a una città colpita dal terremoto in Italia e alla fine abbiamo ottenuto più di 8 milioni di voti. Facciamo un calcolo semplice, vedete 4 centesimi in pratica per ogni voto ottenuto. La spesa come Movimento 5 Stelle è stata 4 centesimi per ogni voto ottenuto. in base al sistema dei rimborsi italiani avremmo avuto titolo a 4,86 euro per ogni voto ricevuto, più di 100 volte rispetto all'altro importo. Vedete qual è la differenza tra il rimborso semantico, lessicale, per i partiti di cui ho parlato prima. Alla fine abbiamo detto no a più di 42 milioni ai quali avremmo avuto diritto, semplicemente perché il referendum che c'era stato in Italia diceva che in realtà non avevamo diritto a quei soldi. e a partire da lì abbiamo continuato con il nostro passo e ogni volta che potevamo evitare di chiedere i soldi non li abbiamo chiesti e in tutte le elezioni regionali dove avremmo avuto titolo più di un milione di euro ogni volta oppure dove eravamo obbligati a ricevere il denaro abbiamo trovato modo di restituirli. Un altro punto era quello di riunire la gente, mettere assieme la gente per fare cose assieme per attivarsi per quello che riguarda l'Italia, per quello che riguarda il mondo. Prima vi parlavo di Mita che è stato utilizzato molto da Howard Dean grazie al consigliere John Trippi, probabilmente uno dei migliori consiglieri degli Stati Uniti per la campagna politica. Tramite Meetup che è un sistema che fa incontrare persone in una città abbiamo creato 1429 gruppi in Italia ma anche nel mondo perché abbiamo gruppi in Giappone, negli Stati Uniti, in Argentina e in tanti altri posti nel mondo. Quindi con il sistema Meetup copriamo più di 20 Paesi. Se fate il raffronto di questi numeri con quelli del Partito Democratico negli Stati Uniti oggi che utilizza Meetup per far incontrare la gente, vedete quanto siano importanti questi numeri per il Movimento 5 Stelle che è un movimento italiano con un Paese delle emissioni dell'Italia, non un Paese delle emissioni negli Stati Uniti con 400 milioni di abitanti più o meno. Poi altro punto, come dare possibilità agli attivisti, agevolarli, consentire loro di essere attivi è utile per le campagne elettorali o per intervenire su singole tematiche che volevamo affrontare come Movimento 5 Stelle. Un esempio che vi presento oggi è l'Attivista 5 Stelle, un'applicazione che abbiamo integrato in Facebook è un'applicazione che consentiva alla gente di fare delle cose, ad esempio coinvolgere degli amici, intervenire per un sostegno finanziario, promuovere degli eventi, promuovere singoli candidati e tante altre attività che potevano fare. Con queste attività guadagnavano punti, un'attività generale che poteva aiutare il partito nella campagna politica e guadagnavano i punti che avrebbero poi consentito di vincere una cena con Beppe Grillo. Più di 50.000 persone sono state coinvolte con questa app. Poi, infine, uno dei temi principali quando parliamo di democrazia è la questione delle informazioni. Purtroppo per noi in Italia, non so se siete mai stati a Washington, forse sarete andati a vedere un grande museo, museo della storia dell'informazione e forse avrete visto questa parete con un grande mappamondo e con un punticino giallo in mezzo all'Europa. E quel punticino giallo è l'Italia. L'Italia viene considerata parzialmente libera, un paese parzialmente libero per quanto riguarda l'informazione. E questo è un problema grande per un nuovo movimento che deve crescere e partire da zero se tutti mass media sono contro di te perché in qualche modo sono legati al sistema politico presente. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato con il blog nel 2005, non pensando all'epoca di creare un movimento ma pensando a cambiare le cose a livello politico e anche a livello sociale, economico e su altri piani che meritavano di essere affrontati. Abbiamo iniziato questo blog nel gennaio 2005. Per dicembre avevamo ricevuto un premio dal Sole 24 ore, il principale quotidiano finanziario italiano. Abbiamo ricevuto il premio come website migliore per la categoria informazioni e questo è stato l'ultimo premio che abbiamo avuto dai mezzi di comunicazione principali italiani. Per fortuna invece all'estero ci hanno dato altri riconoscimenti come nel 2006, il 28esimo blog più visitato al mondo, il 2008, nono blog che ha più influenza nel mondo secondo gli osservatori. Naturalmente non c'era soltanto il blog, c'erano anche i social media che sono stati utilizzati parecchio in modo vasto e per darvi una sensazione della portata dell'utilizzo dei social media per noi e il riferimento al mondo, come riferimento rispetto al mondo, ho fatto un paragone tra i numeri nelle seconde primarie del Partito Democratico del 2012 con i numeri di Pepe Grillo rispetto agli altri concorrenti nelle primarie. Oggi questi numeri sono un po' cresciuti con più di un milione e 780 mila Twitter e Facebook. Ovviamente l'aspetto digitale non è l'unica cosa che abbiamo, che abbiamo utilizzato, utilizziamo ancora. ma è stato un elemento importante anche per organizzare incontri di piazza, abbiamo utilizzato anche il video streaming, come la cosa, come dicevo streaming online, l'ultima manifestazione per le elezioni europee, ha visto più di 150 mila persone che hanno guardato online e se sapete quali sono di solito i numeri online, sono dei bei numeri per quanto riguarda lo streaming online. Quindi fare andare gente in piazza o in strada è stato uno dei punti di attenzione principali del Movimento 5 Stelle a partire dal primo V-Day nel 2007. Non tutti i mezzi di comunicazione hanno parlato di questo evento, ne hanno parlato solo il giorno dopo, ma qui vedete un giornale del giorno dopo che parla del shock causato da Grillo. I mezzi di comunicazione principali sono stati scioccati nel vedere cosa era possibile fare tramite internet senza sostegno dai mezzi di comunicazione principali. Quindi vi ho parlato dei vari strumenti che abbiamo utilizzato per consentire alla gente, agli attivisti dei 5 Stelle, ai membri del Movimento 5 Stelle di interagire, di partecipare al Movimento stesso e rendersi rappresentanti essi stessi, come i deputati nazionali o deputati europei che sono qui quest'oggi. Oggi abbiamo creato un nuovo sistema che comprende tutte queste attività che abbiamo visto, il voto, l'ex e tante altre cose che sono in cantiere e l'abbiamo chiamato Russo, secondo il nome del famoso filosofo che pensava che l'unico modo per conoscere la volontà della gente e chiedere al popolo qual è la propria volontà. Questo sarà il sistema con il quale tutta la gente, gli attivisti, i membri del Movimento 5 Stelle saranno in grado di interagire, come già fanno quest'oggi, con molte attività come abbiamo visto prima, per le leggi, per votare, per scegliere i candidati e per tante attività previste. Con questo concludo per passare ad un'altra storia molto interessante, quella che sentiremo oggi, la storia dell'Estonia. In Estonia il 30% della popolazione vota online e questo ha cambiato il nostro modo di pensare a un sistema di voto tradizionale. Naturalmente sono molto interessato a sentire tutte le storie in Europa e nel mondo che siano legate alla democrazia elettronica, alla democrazia diretta e all'utilizzo di internet a fini democratici. Quindi se avete storie di questo tipo scrivetemi, io sono molto interessato. E con questo vi ringrazio molto della vostra attenzione e passo la parola. Grazie. Grazie. Grazie.